La data, no? Fritto. Fritto, quanto se ne ha fuori? Quasi 1.500. Fritto le face 1.500. Lo sai tu quando ero vicino? Ma perché scrive, arriva una lettera a Roma, quasi 2.000. Non so niente, l'estate è quasi 1.500, io lo so. Mi informo io sull'altra. Allora, lì nato. Allora, caro... No, aspetta. Caro no, mica il nostro amico. No, signor. Vai, chiostro. Allora. Aspetta, no, non scrivere subito. San... Santissimo sono una Roma. Santissimo. Come sei bello, per esempio, come se volessimo dire. Santissimo Savonarola. Ma scrivi come sei bello, eh? No, no. Santissimo Savonarola. Quanto ci piace? Ma è un po' che lo sono accorciato. Quanto ci piace? Quanto ci piace? A noi due. Ma io se mi metto già la casinima seguace. Esclamativo ce l'avranno? Niente. Allora, se non si sape che questa è esclamativa, ma qua scrivi scusa alle volgarità. Scusa alle volgarità. Ma che volgarità, Savonarola? Sì. Ogni cosa è peccato. Ma capace? Mi sono puntata esclamativa e dice, che è questa cosa qua? L'uomo con ogni puntino? E' peccato. Poi noi diciamo che ti metti parlo su. Scusa alle volgarità. Le volgarità. Allora mettiamo la freccia. Questo è un esclamativo, non è un... No, no, no. Scusa alle volgarità. Eh? Eh, perfetto. Eventuali. Eventuali. Eventuali perché, se no... Ha uscito come dico io o no? Eventuali. Perché, se no, chi lo diceva? Scusa alle volgarità. Se non ci stanno volgarità, vuol dire che volevi essere volgari. Non ci sono riusciti. Ma poi c'è questo. No. Non siete volgarità. Eventuali. Eventuali. Che... Come va? No. Sono... Santissimo. 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 Noi non... Lascia liberi Vitellozzo. Lascia... Lascia... Ma c'è chi ci spiega per bene. Capitano? La vera. Perché questo fa così... Sapono da volare. No, anche degli due è proprio uno per voi. Eh, appunto. Sapono da volare. Scrivi. Sono una rotta. Che c'è? E che? Oh. Diamoci una calmata, come dire tutti insieme. Eh. Diamoci. Eh, no. Diamoci una calmata, eh. Oh. Metti qua... Eh, eh. H. Eh, eh. Oh. Poi scriviamo nel caso scusa le parenti. Sì. E che... E che... E che... E che... Ma qua pare che ogni cosa... Ogni cosa non si può muovere che... Questo, quello è pure per te. Oh! No? Beh, sì. Questo è quello. Oh! Eh? Due persone, personcine... Noi siamo due personcine per bene. No? Non pensate... E che non facciamo male a nessuno. Cioè... Che... Che non farebbero male nemmeno a una mosca. Figuriamoci. Figuriamoci a... A un frate... A un santo come te. Figuriamoci a un santone. A un santone come te. Anzi. Varrai più d'una mosca, no? No. No, non ci saranno. Vado come metti in competizione. Va bene. Anzi. Anzi. Anzi, già spiego tutto questo. Anzi. Varrai più d'una mosca. Anzi. Ciao. Eh... No, no, no. Casimo lo saluto per bene proprio. Cioè da peccatore umido, capito? Noi ti siamo... Cioè ti salutiamo... Con... Ti salutiamo con... Con proprio... Non sappiamo nemmeno... Aspetta. No, aspetta. Proprio... Siamo... Ti salutiamo... Sì. Con la nostra faccia... Sotto i tuoi piedi. E' proprio un massimo la... Perché? Con la nostra faccia? Un peccatore, eh. Sotto i tuoi piedi. Senza chiederti... Nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti. Cioè che muoverti? Cioè la faccia sotto i piedi... Questo può camminare... Così che le pensi proprio a 5 o 2... Umido, capito? Bellissima immagine. Quella faccia sotto i tuoi piedi. E puoi muoverti. E puoi muoverti. Quanto ti pare piace. Quanto ti pare piace. E noi zitti sotto. Eh va bene. Va bene. E noi zitti sotto. Punto. Scusa... Scusa il paragone... La mosca... Il frate. Il frate. Non volevamo minimamente offendere. I tuoi peccatori di prima... Per risalutare. Con la faccia dove sappiamo. Ormai gli si è detto. Cioè lui... Con la faccia dove sappiamo. I tuoi peccatori... Con la faccia dove sappiamo. Semplici. Semplici. Sotto. 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 Sotto.